Hello guys, benvenuti in questo video. Oggi portiamo un po' di unboxing coreane, nello specifico First Wave e Second Wave. Il motivo appunto per cui vi porto questo video è perché molti di voi mi hanno chiesto ma è meglio la First Wave o la Second Wave per Edison? Allora, a tal proposito ho deciso, dato che avevo già portato entrambi, diciamo, entrambi le unboxing sul canale, ho deciso di portarle, diciamo, assieme in maniera tale che anche voi possiate vedere dal vivo quale appunto vi aggare di più. Io, personalmente parlando, ve lo dirò dopo quale preferisco, anche se già mi sono espresso teoricamente a riguardo. Ma prima di continuare, io, come al solito, vi faccio presente il codice sconto sulla Gilla Store, che è un negozio appunto di Yogi Magic e compagnia varia, una fumetteria a tutti gli effetti, dove potete appunto acquistare prodotti coreani come questi per l'appunto e ordinarli a casa vostra con un piccolo sconto anche sui prodotti in preordine grazie al mio codice S3.5, che trovate qui sotto in descrizione o qui a destra, in basso a destra, scusate. Allora, io, innanzitutto, dato che il video penso durerà un pochettino, dato che sono nel complesso, allora abbiamo il First Wave qui, che saranno 30 pack da una parte e Second Wave uguale dall'altra. Ecco qui tutti i pack, metti tutto a fuoco, ok. Allora, io direi di procedere prima con la First Wave. Penso, vada, forse facciamo 1 e 1. No, penso che andrò con la First Wave per prima, così almeno potete confrontarli, metto qui appunto le sezioni, in maniera tale che possiate vedere quale vi interessi di più. Allora, iniziamo subito col primo pacchettino delle nostre magiche forbicine d'unboxing. Abbiamo una Skill Drain, Dandelion, ma con la fede questa è ottima anche per Gotto, questo pack. Quindi, come vedete, ci sono anche carte molto utili per il formato 2005. Allora, a tal proposito, di formate, se magari qualcuno di voi non è iscritto al canale, si è ritrovato in questo video per puro caso, io intanto vado avanti, abbastanza spedito, tanto penso che le carte appunto si vedano abbastanza. Io sono appunto, questo è il mio canale, sono Stardust, conosciuto anche come test, insomma, decidete voi come chiamarmi, e principalmente porto appunto contenuti retroformat. Nello specifico, mi sto occupando al momento di Edison come maggior parte dei contenuti, ma anche Tenguplant possiamo ufficializzare, dato che appunto ho realizzato una mini guida al formato sia Tenguplant che Edison, e a proposito di questo mi piacerebbe stendermi un po' più con... mio amato, con i vari formati. Vorrei portarli pian piano tutti, però, ragazzi, come già rispondevo nei commenti, io vorrei farlo, ma lavorando la maggior parte del tempo, mi risulta un pochettino difficile. Diciamo, sono video che hanno un certo peso, diciamo, una certa mole di lavoro. Pensate che per il Tenguplant, nelle serate che avrei potuto averle li, però ho deciso di dedicarmi un appunto a questa, anche per aiutare la gente a far parte di questa meravigliosa nicchia, potremmo definire, che se volete, a proposito di nicchia, vi posso anche suggerire di far parte del Discord. Dunge, uh, abbiamo la prima ultra rara, signori, che non so quale sia, c'ha solo delle piume. Ok, la vediamo qui. E sta, diciamo, alle prime armi, siamo pochissimi per ora all'interno, però sentitevi liberi di, diciamo, entrare e discutere di quello che volete inerente al mondo di Yugi, ma anche, che ne so, avete, volete un po' di compagnia, qualcosa, diciamo che il mio obiettivo come YouTuber, YugiTuber, come volete chiamare, insomma, fate Vobis, è quello di creare un piccolo luogo sicuro per, non lo so, per appunto chi mi segue, comunque sono sempre utile, per chi mi segue, confrontarsi in maniera molto chill, quindi molto tranquilla, con il massimo rispetto, perché quello che non toglie, appunto, la mancanza di rispetto, e condividere magari le vostre idee, magari avete anche una decklist che avete qualche dubbio, potete mettere appunto, ha fatto uno degli utenti nel Discord, l'ha messo appunto all'interno del canale, e diciamo, almeno, dato che siamo ancora pochi, l'ho aiutato almeno personalmente a rivedere la decklist, dandovi un'altra, ecco l'altra ultra rara, questa di Hiro, dandovi le mie personali opinioni, ovviamente, e quello che secondo me era, per i miei estanti, ovviamente, la lista migliore, poi ovviamente, il bello di questo gioco è che la lista dovete adattarle in base alle vostre esigenze, e l'altra ultra rara, ok, abbiamo trovato tutte le ultra, forse mi pare fossero tre a box, ci manca la, 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 la secret, e niente, sì, quindi di base questo è il, 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 il mio canale, allora, oh, si è incastrato, diciamo, a fine video vorrei farvi vedere se riesco, come si chiama, un unboxing di un prodotto molto costoso, molto, estremamente costoso, direi, sigillato, che vorrei aprire insieme a voi, vorrei farlo come speciale per, forse, i 3.000 iscritti, non lo so, vediamo un po', poi ve lo faccio vedere, io spero di inquadrare le carte nella maniera giusta, perché, allora, io praticamente ho il treppiedi, diciamo, così mi pare, per, appunto, lo smartphone, e giustamente il pezzo, quello che mantiene fermo il telefono, ce l'è, ce l'ho al centro, per tenerlo, oh, sono riuscito nell'impresa, quindi non apri il pacchetto con le forbici, davvero, oppure sono semplicemente io impedito, infatti è così, e quindi non vedo bene, diciamo, le carte, e parlando di strano, ah, la secret, bello, il mago nero, non so che carta, come si chiama in italiano o meno, quantomeno, e, bene o male, come vedete, le carte sono appunto quelle di, Goat, Edison, Edison, Goat, questa per entrambi i formati, un'altra secret, wow, che è la stessa che abbiamo trovato nello scorso box, nello scorso box, però siamo riusciti a trovare il Blue Eyes, completamente inaspettato, diciamo, è la money card del box, veramente inaspettato, mazza quanto durerà sto video, secondo me, e poi gli parla, uh, la fusione è futura, ci piace, ultra rara, e tu ci piaci sempre, provo a precedere, ci piaci, perché appunto, il Red Dice, Darkest Metal Dragon, è la mia carta preferita, forse se la combatte con, il, il darkness normale, che appunto, mi sono proprio affezionato, a quella carta, quella carta lì, e comunque ragazzi, a furia di trovare, una super, abbiamo un gd, io a furia di trovare, diciamo, carte per Goat, io me l'ho fatto anche, la mezz'idea, iniziano a giocare al formato, però, il motivo per cui appunto, mi sto dedicando principalmente, a Dison e Tengu Plant, perché sono un po' nelle mie, nelle mie reti, diciamo così, perché appunto, era l'anno in cui sono stato, un po' più attivo, mi sono interessato, molto di più, molto di più al gioco, e, secondo me, come dico anche nel video, almeno il Tengu Plant, nel, soprattutto, sono diciamo, di formare con tantissima varietà, non che il Goat ne abbia, è solo che appunto, non lo conosco così bene, non, ho un po' di paura ecco, di infilarmi, nella, come io dire, non è tanto il confronto, ma il fatto che non conosco bene, il formato, quindi, ho spolverino, bellissimo, un altro spolverino, questo non ci fa male, e, non conoscendo bene il formato, è come se non mi sentissi, in dovere, di, di farvi qualcosa al riguardo, ecco, questo è il motivo, diciamo pure, per cui, un po' di timore, a portarvi, altro che sia, lontano dalle mie, corde, però, per l'appunto, giocando, vedendo, studiando, si imparano tante cose, quello, assolutamente giusto, ma, avendo poco tempo, diciamo, mi è un pochettino, complicato, oddio, pensavo, ah, esce pure questa, azzzo, ok, ok, questa è una delle carte, per esempio, più forti, del, di Edison, bannata in Tenguplant, ma in Edison, o PSF, ok, l'altra volta, a DJD, mi pare, non avessimo, praticamente, trovati, sto giro, e stiamo trovando, un, un, un casino, voi, non lo so, ragazzi, nei commenti, scrivete, diciamo, il vostro formato preferito, cosa ne pensate, appunto, del, non voglio dire, del canale, assolutamente, assolutamente no, cioè, non che non possiate, anzi, a me farebbe solo che, che, piacere, diciamo che, il motivo per cui ho aperto il canale, è, principalmente, per la, uh, bellissimo, coreano, non ce l'avevo, ok, diciamo, il motivo per cui ho aperto, principalmente, il canale, è per, nostalgia, perché, effettivamente, Yu-Gi-Oh! è un gioco che, mi piace, la community, almeno, per, come, lo, me la ricordo io, nel, 2010, 2011, non era affatto, mmm, tossica, assolutamente no, mmm, non so perché, siano cambiati così tanto, i tempi, non sto dicendo che tutti siano, tossici ora, assolutamente no, uh, ma che è sto box, è, è god, ci manca solo il drago bianco, che, ha un, riteo, un radio, molto, basso, è impossibile, ritrovarlo di nuovo, cioè, proprio, statisticamente, penso sia abbastanza improbabile, però, cioè, io, calcolate, questa carta qui, questa qui, io non l'ho mai posseduta, mai, mai, e mi sarebbe piaciuto, poterla, vediamo se la riesco a procurare in futuro, però, ora ce l'abbiamo in coreano, a proposito di questo, l'altra, diciamo, discussione, che è nata, ehm, riguardo, le carte coreane, e perché non si possono utilizzare, in, cioè, giocando tranquillamente, ehm, un evento e roba varie, allora, di base, potreste sempre, usarli, infatti non abbiamo trovato il Blue Ice, potreste sempre, ehm, utilizzarle, negli eventi ufficiali, no, penso anche per una questione economica, a parte di Konami, dato che Konami, America, Europa, quel che ci vada, a perdere, intanto inizio con l'apertura della, Second Wave, e così, possate farvi anche, una piccola, idea al riguardo, comunque, ai logo, le robe varie, penso che se, vi mettiate d'accordo, con, eh, il negozio, soprattutto, e, tutta la gente che, lo, lo frequenta, non credo ci siano, ehm, problemi, ecco, il, tornando al discorso della Second Wave, non è che è brutto, il, il, il pack, però, come vedete, stiamo già, andando a, trovare carte, che sono un po' oltre, il, il formato, formato Edison, siamo già nel 2011, 2012, in Sector, 2000, eh, fine 2010, mi pare, Infernity, Dark Law, addirittura, 2000, oddio che era, 2014, mi pare, non, non ricordo esattamente, ricordo solo che giocavo, Burning Abyss, in quel periodo avevo ripreso per l'ennesima volta, a giocare prendendo i, i cosiddetti Dante, ecco, questa è una delle carte più forti del formato 2011, Evil Swarm, Six, il Veiler, come vedete, è, dalle prime due bustine, vi dico che è un po' più adatto, a chi gioca Tengu Plant, forse, rispetto al, al, alla First Wave, che, ora che ci faccio caso, non abbiamo trovato nemmeno un Cyber Drago, nemmeno un Cyber Drago, minchia, addirittura, Nekroos, cioè, e, qua sono sicuro che era 2014, che è 2013, c'era il Dragon Ruler, ma abbiamo trovato nemmeno un Cyber Drago, nella, il Dragon Pack, peccato perché, mi serviva almeno il secondo, perché sto, puntando ieri che vorrei portarvi appunto, sul, sul canale, e stavo appunto mettendo i Cyber Drago, i Cyber Draghi, mh, che coreani, sì, allora abbiamo anche il, non Tengu, come si chiamavano, Tengki mi pare, e ragazzi, purtroppo, la mia memoria non è infallibile, anzi, a volte vengo chiamato memoria da piccione, ecco, abbiamo una carta per Edison, che il Goyo, che obiettivamente Tengu Plant, non potreste giocarlo, e qua abbiamo, robe per 2011, quindi, diciamo che, ripeto, non è, un pack brutto, assolutamente no, io ve lo consiglio lo stesso, ma, se siete giocatori, diciamo, del formato, Tengu Plant, a questo punto di, vi direi, in poi, cioè, ecco, anche abbiamo gli Artifact, il Dark Lord, l'Insecto del 2012, questa che cacchio è, pare l'Effect Veiler potenziato, questa non la conosco, per essere sincero, va bene, e la Monet Card, invece di, questo box qui, per chi non lo sapesse, è, il Dark Magician, il Mago Nero, l'abbiamo, la First Way, abbiamo il, il Blue Eyes, che potreste, se vi interessa vederlo, potreste vederlo, appunto, nel mio scorso video, inerente alla Second Wave, ho cercato su Google, semplicemente, solo che, appunto, se mi fa piacere, diciamo, una visualizzazione, un commento, fa sempre piacere, un altro super, però, ripeto, come vedete, abbiamo l'Eptiness, e l'Effect Veiler, siamo sempre intorno a quel periodo storico, periodo storico lì, perché allora, di base, per una base, secondo me, per avere, diciamo, una base generale, sui retroformat, io vi consiglierei più, appunto, la First Wave, andando un po' più, nel dettaglio, quindi, in caso che voleste, ampliare, la vostra cartpool, mi verrebbe da dire, penso che sia, diciamo, un ottimo, un ottimo, un ottimo pack, mi sono scordato, quello che vi stavo per dire, ma, ma dettagli, riguardo sempre, la Second Wave, ecco, mi sono, mi sono ricordato, e, semplicemente, voi potreste dire, sì, ma, sono sempre, sempre i soldi, ma, sono sempre i soldi, questo è chiaro, ma, a differenza, diciamo, di un box TCG, cioè, quindi nostro, i pack coreani, cioè, i box, anzi, coreani, costano, decisamente, decisamente, decisamente meno, calcolate, che io, questi qui, li ho pagati circa, 30 l'uno, 30-35, circa, e, profittando, magari, dello sconto, sulla Gilla Store, che ne vende, tantissimi, soprattutto, se siete giocatori di gotte, e vi siete ritrovati qui, io, vi consiglierei di dare, uno sguardo, appunto, al, 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 negozio, io lo dico anche, perché conosco, il, il proprietario, sia chiaro, non mi interessa, né guadagnare, né qualcosa, anzi, mi fa solo piacere, diciamo, aiutare, qualcuno, nella propria attività, eccolo qui, questa è un'altra delle carte, più importanti del 2011, il nostro, solo il nome, il solo è morning, e, se volete risparmiare, qualcosina, appunto, approfittate, ecco, se siete giocatori, hanno, soprattutto, roba di gotte, però, vogliono, diciamo, le intenzioni, telami, cadoravo, rank 6, loro intenzioni, appunto, quelle di, un po', ampliare, gli orizzonti, l'aglia, quindi, raga, lo sapete, diciamo, periodo di questo qui, è, oh, qua c'era tanta aria, in questo pack, periodo di questo pack, 2011, in poi, possiamo dire, ecco, abbiamo, l'onfire blossom, una ultra, perché c'era, appunto, abbastanza aria, nel pack, quindi, c'era la possibilità, appunto, che, ci fosse una carta, un po', più, più, più rara, questo, questo, come si apre, che delicatezza, toccassi così, a mia ragazza, scusate, si, sono anche, molto, aria, questo, pure, mi sembra, ci sia, l'aria dentro, non lo so, che è stato, l'ho preso, diciamo, abbastanza, all'improvviso, quindi, non ci ho fatto, troppo caso, magari, è stato solo, e invece, no, ci ho azzeccato, c'era l'aria dentro, assentore, infatti, abbiamo trovato, il rescue cat, coreano, e, mancano un pochettino, che ragazzoli, quanto sta durando, 20 minuti, giustamente, un unboxing, abbastanza lungo, il nostro, retroformat, il nostro, stardosto, we, we, oh, tour, e pod, mi fanno sempre, piacere, pure, il veiler, non ci, dispiace, vai, questo c'è il mago nero, che lo dico, non è vero, non c'è il mago nero, non c'è, ma se c'è, eccolo, Briona, Briona, ultra, ok, voi ragazzi, si sente un sacco, quando ci sta, l'ultra rara, e quando no, cioè, che ti giuro, la sensazione è difficile, dirlo, rispettamente dal video, d'esterni, però, caso che, dovesse comprare, questi, pack, almeno, questi nello specifico, ma penso, siano un po' tutti coreani, perché io, questi sono i primi pack coreani, infatti, quello dello scorso video, che io apro, si sente, si sente un sacco, diciamo, l'aria dei pack, un po' più, più rari, tipo, questo qui, vedete, è molto attaccato, non mi pare, non mi pare, ci sia, una carta rara, lo constateremo, però, secondo me, è così, almeno, a sensazione, quindi, vediamo, il librario, questo, vedete, appunto, non ho trovato nulla, qui, qui invece, forse, c'è qualcosa, vedete, vedete qua, come è più molle, che c'è più aria, e si sono mosse, anche, si sono mosse, anche le carte all'interno, e qua, ho tagliato male, perché appunto, sono più scivolose, per l'appunto, scusate, se mi interrompo, mentre parlo, però, sto cercando di vedere, tre cose contemporaneamente, signori, la money card, la money card, e ho constatato, il fatto, che ci fosse aria dentro, e mi son zittito, perché, sì, cioè, diciamo che ho avuto, molto culo, facciamo vedere meglio, eccola qui, molto culo, perché, praticamente, nel box scorso, sono riuscito a trovare, la money card, dell'altro, che sono tipo, 100, 120 euro di carta, ma con Eron, penso costi un pochettino meno, però, è sempre, una money card, cioè, io mi zittisco, e niente, questo quaderno, però, c'ho azzercato, la spazza dell'aria, nei pack, ecco, pure questo, forse, quello qui, scivoloso, e, lasciate un commento, stardust, stardust, sto azzercando, tutti i pack, quelli, diciamo, quale, dentro, questo, vedete, no, vedete, che rigido, questo, non c'ha nulla, e, non mi ricordo, non mi ricordo, sto vedendo, perché entro la memoria, ma ho detto che c'era la carta buona o no, in quello col mago nero, beh, è perso di sì, però, si è detto una cagata, sto zitto, cioè, ormai l'ho detto, però, ole, è infatti anche qui, perché era un po' molle, e, già un pack, per collezionisti, anche, lo potremmo definire, è andato molto, molto, molto bene, non mi sono sorpreso come al Blue Ice, perché, diciamo, ho detto, vabbè, una carta così rara, che vuoi che capiti a me, invece, l'altra volta, è stato veramente assurdo, qua, la porca droga, non me l'aspettavo, scusate la parolaccia, porca miseria, porca miseriaccia, bastarda, stab è qua anche, era abbastanza rigido, quindi, allora, oddio, non roviniamo le carte, abbiamo, facendovi, un resoconto, delle carte, ultra rare, del second wave, cioè ultra rare, scusate, le foil, della second wave, che come potete vedere, sono ben lontane, tranne per il Brionac, dal formato 2010, mentre, le carte, la first wave, che sono, vabbè, queste, qualcuna, non la calcolate, sono, scusate, ho fatto tremare, il braccio, sono molto più vicine, alla, first wave, ma, vi faccio anche vedere qui, cioè, appunto, abbiamo, dimensionale, forte design, il Kaios, parla da solo, il Bricker di Goat, il Kimeratech, il Kaios, il Stratos, per Hero, il Mezuki per Zomi, Royal Decree, Reborn, ok, per 2011, però, come vedete, sono molto più, vicine, al formato, Edison, quindi, vivamente, se siete interessati, al formato Edison, vi, vi direi, appunto, di preferire, la, first wave, alla, alla seconda. Se questo video raggiunge, tanti like, ma con difficoltà, o arriviamo a 3.000 iscritti, col canale, io vi prometto, che apriamo, questo qui, come vedete, è sigillato, nuovo, e mi verrebbe piacere, aprirlo, appunto, assieme a voi, perché, appunto, io faccio i video, principalmente, per nostalgia, mi mancava un sacco, per le carte, e mi mancava un po', condividere la passione, con quella che, era, diciamo, una delle prime, sono stato anche, uno fra i primi, content creator, di YouTube, poi ho smesso, per tante cose, mannaggia a me, per quanto riguarda, Newt, comunque sia, non voglio vantarmi, nient'altro, vi invito sempre, a seguire il mio canale, lasciare un commento, un like, per supportarmi, farmi sapere, che ci siete, insomma, e soprattutto, se volete interagire con me, seguitemi sui social, o anche, gioinate tranquillamente, appunto, il server disco, perché siete, assolutamente, sempre, i benvenuti, finché, appunto, non create, cacciare, in senso, negativo, a quel punto di vista, perché miro appunto, ad avere una, community molto, pulita, per nulla tossica, e che, sia rispettosa, sempre verso l'altro, quindi, io vi ringrazio, aver guardato il video, fino a questo punto, andate nella descrizione, magari, se volete comprare anche, le carte singole, vedete il mio link, per CatRator, ottenere 2 euro, gratuitamente, e niente, grazie ancora, arrivederci, e al prossimo video, see you next time!